italia football club valdobbiadine il nome forse deriva dalle due ramificazioni del piave oggi è sinonimo di prosecco un tipo di vino prodotto solo in queste colline della provincia di treviso un doc g denominazione di origine controllata e garantita sigla che indica la precisa origine geografica di un vino il prosecco di conegliano valdobbiadine nasce in 15 comuni come quello di san pietro di feletto qui produciamo il conegliano valdobbiadine di ocg di particolare questa zona ha sicuramente le persone e il territorio normalmente d'inverno nevica fino a vittorio veneto e nevica fino a treviso non si capisce bene perché in questo anfiteatro non nevichi mai la temperatura il clima è veramente ideale questa è la culla del prosecco se uno vuole il prosecco deve venire qui il prosecco di conegliano valdobbiadine si può trovare nel tipo frizzante tranquillo e spumante secco o amabile sapori e profumi di una terra nella quale eternamente fiorisce la vite sotto la montagna dalla nuda sommità ove il verde ombroso protegge e ristora come aveva cantato il poeta venanzio fortunato le colline che vediamo molto successive ricamate di vigneti con le pendenze molto forti non erano adatte in passato alla coltivazione dei cereali quindi erano un ripiego o bosco o vigneto sulle colline hai le condizioni migliori come esposizione al sole come correnti d'aria questo è un bel territorio ci sono delle belle colline c'è della bella gente secondo me c'è del buon vino del buon mangiare il prosecco è un qualcosa che si prende in un momento conviviale in un momento di felicità in un momento di tranquillità non è mai troppo impegnativo ormai il prosecco è diventato sinonimo di festa di felicità di spensieratezza il nostro claim è toby happy il nostro motto per chi non capisce l'inglese come me è toby happy per essere felici